Crescita in brusco e grande aumento. Avelino e poi Napoli sono le province campane dove la crescita dei contagi sale ad ogni bollettino e dove non si è ancora raggiunto il picco. I dati stabiliti dalle analisi del matematico Giovanni Sebastiani dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo Picone del Consiglio Nazionale delle Ricerche, basate sulle differenze settimanali sulla curva dell'incidenza di positivi totali nelle 107 province prese in considerazione. Secondo questi calcoli la crescita si presenta lineare per le altre tre province campane, Salerno, Caserta e Benevento. L'epidemia di Covid-19 segue andamenti diversi nelle 107 province, 7 delle quali sono al picco e 28 lo hanno già raggiunto, mentre in 40 si registra una crescita frenata. In altre 13 province si rileva ancora una crescita di tipo lineare e in 19 l'incidenza è rapidamente aumentata, tra queste appunto in Campania, Avellino e Napoli. Per i matematici del CNR il nostro territorio è getto ancora dell'escalation dei contagi. Dati confermati dai bollettini ASL, ieri domenica 17 gennaio 2022 sono stati 555 positivi in Irpinia con più di 5.000 tamponi, ancora un decesso a perdere la vita al Moscati, un 86enne di Avellino ricoverato dal 7 gennaio, l'uomo si trovava nella terapia subintensiva del Covid Hospital. Le province che hanno raggiunto il picco si trovano soprattutto in Toscana ed Umbria, che anche a livello regionale mostrano di aver da poco superato il picco dei contagi assieme a Lombardia ed Abruzzo, che sono attualmente invece al picco. Sebastiani rivela che queste regioni sono 4 delle 7, dove nelle ultime settimane del 2021 c'è stata una crescita potenziale, con tempi di raddoppio degli incrementi piccoli probabilmente a causa della variante della diffusione Omicron. Già la scorsa settimana un altro studio del CNR aveva indicato Avellino tra le 32 province italiane dove la Omicron corre di più, e questo spiega i tantissimi contagi in considerazione del potere infettivo dell'ultima variante. Un malato infatti ha la capacità di contagiare almeno 10 persone intorno a lui, rispetto alle altre varianti precedenti che si mantenevano sui 5 e quella originaria tra le 2 e le 3 persone.